Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti al mio canale. Oggi torniamo a parlare di ebay, sia che tu faccia dropshipping o sia che tu venda su ebay ti sia capitato di ricevere un feedback negativo o neutrale e sai benissimo quanto un feedback negativo può essere fastidioso sia a livello psicologico sia a livello di vendite specialmente se sei un piccolo venditore con pochi feedback quindi non può migliare di feedback e va a impattare la tua percentuale oggi ti spiegherò esattamente come lo puoi rimuovere e tutto quello che devi sapere sulla rivoluzione dei feedback quindi resta con me ragazzi bentornati, benvenuti torniamo a parlare ufficialmente di ebay con un argomento molto interessante cioè quello dei feedback che è cambiato molto in modo di farli rimuovere in questi mesi quindi oggi voglio parlare con voi esporvi tutto ciò che so sui feedback su come potete utilizzare queste conoscenze per farli rimuovere e avere accounts sempre con 100% di feedback positivo tra l'altro iscrivetevi al canale metti like al video così mi aiuti a farmi crescere e datemi l'opinione sulla qualità di questo video perché come vedete non sto usando la videocamera che ho utilizzato sempre ma sto usando l'ultimo iPhone 13 Pro voglio vedere se effettivamente posso sostituire una telecamera fatemi sapere cosa ne pensate detto questo torniamo a parlare dei feedback negativi ti sarà capitato se vendi su ebay di ricevere un feedback negativo soprattutto se fai dropshipping e quindi non hai controllo personale della merce ad esempio fai dropshipping da Amazon da AliExpress ovviamente non conosci la merce che stai vendendo non la guardi non la impacchetti tu quindi può capitare che ricevi un feedback negativo ora quello che dobbiamo capire ragazzi è che il 95% dei feedback è rimovibile in un modo o nell'altro perché? uno perché gli acquirenti ora poi vediamo anche come rimuoverli uno perché gli acquirenti non sanno lasciare un feedback molti acquirenti lasciano un feedback presi dalla rabbia dell'emozione dal momento perché per loro ovviamente hanno sempre ragione poi non è così il cliente non ha sempre ragione anzi nella mia esperienza ha poche volte ragione perché si acquista di impulso non si leggono le distrizioni non si contatta il venditore tutta questa serie di cose vabbè non andiamo nell'etica del lavoro se no ci perdiamo quindi lasciando un feedback negativo di impulso scrivono magari insulti scrivono arrabbiati scrivono cose imperfette scrivono cose di cui sono arrabbiati ma che in realtà erano indicati nella destrizione ad esempio scrivono che il pack cioè che la quantità dell'articolo non so in caso di un articolo a quantità tipo un integratore era troppo troppo poca per il prezzo pagato ok? per esempio questo qua è rimovibile perché la quantità il peso e il prezzo sono perfettamente indicati o dovrebbero essere perfettamente indicati nell'inserzione e l'acquirente non può lasciare un feedback sulla quantità diverso se voi indicate un chilo io ne spedite mezzo chilo in quel caso ha ragione quindi prima cosa da sapere un acquirente non può mai lasciare un feedback negativo per il prezzo poiché era consapevole del prezzo prima dell'acquisto regola numero 1 vi consiglio disegnarvele per il futuro perché vi possono servire io ora vi darò una serie di motivazioni su cui perché sul feedback che non possono essere lasciati ad esempio numero 2 un acquirente non può lasciare mai un feedback sulla tonalità del colore poiché essa può essere alterata dalla foto dal dispositivo che fa la foto se un acquirente acquista una macchina prografica nera e poi gli arriva nero chiaro nero scuro nero carbone lui non può lasciarla sulla tonalità se gli arriva rossa sì ma non sulla tonalità perché quando facciamo la foto alla merce la tonalità può essere diversa dalla realtà ovviamente ok e questo è il numero 2 numero 3 un acquirente non può lasciare ovviamente poi andiamo a vedere come farle rinuovere in maniera tecnica pratica innanzitutto dobbiamo usare le motivazioni per cui farlo rinuovere numero 3 un acquirente non può mai lasciare un feedback negativo citando competitors di ebay ad esempio se voi fate dropshipping da AliExpress ebay o da Amazon ebay un acquirente non può stire nel feedback mi è arrivato il pacco da Amazon da AliExpress perché ovviamente ebay non vuole i competitors sul feedback numero 4 un acquirente non può mai lasciare un feedback dove mette insulti o offrese numero 5 un acquirente non può lasciare un feedback dove stire siete truffatori numero 6 un acquirente non può lasciare un feedback dove ci sono dettagli personali numero 7 un acquirente non può lasciare feedback dettati dalla consegna o dai problemi del corriere poiché non dipendono da voi quindi ovviamente se un pacco arriva tardi e voi avete messo il tracking quel feedback è rimovibile perché non dipende da voi il problema dove eravamo arrivati al numero 8 poi che altre motivazioni ce ne sono ragazzi un mondo di motivazioni rimovibili in pratica voglio farvi capire io la logica potete sempre girarvi i feedback a come volete per farlo rimuovere perché essendo a distrazione della gente che controlla i feedback parentesi molti di loro tra l'altro se contattano assistenze straniere come assistenze in Inghilterra nemmeno li controllano perché li rimuovono a prescindere non lo dite a nessuno ok quindi essendo a distrazione e in base a come voi impostate il feedback un altro numero 9 una cliente non può lasciare un feedback per articolo non ricevuto se il tracking risulta consegnato o se il tracking risulta che l'acquirente non era in casa o che l'acquirente ha rifiutato il pacco ora ovviamente ragazzi voi ci avete un feedback negativo e pensate non ci sia errore da parte vostra o pensate ci sia un errore da parte vostra la cosa migliore da fare sarà sempre contattare l'acquirente e cercare di risolvere il contenzioso quindi contattate l'acquirente e gli dite cosa è successo un acquirente non so si lamenta della qualità costruttiva il feedback può essere rimosso ma è un po' più complicato vi richiede tempo vi lascia comunque un acquirente non soddisfatto quindi magari lo contattate cercate di capire il problema e gli offrita un rimborso parziale ed è uno loro revisionare il feedback un altro motivo motivo numero 10 un acquirente non può estorcervi denaro quindi se un acquirente vi manda un messaggio chiedendovi un rimborso o un rimborso parziale e poi vi lascia un feedback negativo se non lo fate poi basta voi potete farvi rimuovere il feedback poiché prima vi ha chiesto l'imbosso questo si chiama estorsione e non è tollerata su ebay idem le minacce o i ricatti ok dovete capire un attimo come funziona la storia quindi magari dicevamo contattate l'acquirente e cercate di risolvere gli offrita l'imbosso parziale gli fate revisionare il feedback poiché voi potete mandare se andate nel feedback negativo sulla destra avete un piccolo menu con delle opzioni ci sarà richiedi revisione feedback la revisione feedback che molti convontano con la rimozione dei feedback sono due cose diverse la revisione dei feedback viene mandata all'acquirente l'acquirente può accettarla o rifiutarla ne potete inviare massimo 5 ogni 1000 ordini e ovviamente se la cliente rifiuta poi non la potete fare più la revisione ve la consiglio di mandarla solo se già avete risolto lo cliente e lui è disposto a revisionarlo la rimozione feedback invece viene rimossa viene rimossa i feedback direttamente dal supporto ebay il feedback scompare e non può più essere rilasciato modificato risposto dall'acquirente o da voi ok ora la revisione abbiamo visto come si fa e quando farla come fare la rimozione dei feedback una volta fino a qualche mese fa bastava contattare in chat o via email il supporto ebay parentesi vi consiglio sempre di contattare un supporto inglese anche se la transazione in Italia o in altro paese non importa i supporti sono globali per esempio il motivo del supporto inglese ci sono molti più molti più lavoratori molti più agenti di supporto soprattutto stranieri è più facile trovare la gente che vi aiuterà sia che abbiate ragione sia che abbiate mezza ragione in base a come impostate e a chi trovate mi è capitato di contattare 15 persone mi hanno rifiutato la rimozione dei feedback la sedicesima me l'ha fatta quindi ora ci arriviamo non fatevi abbattere la prima occasione ora prima bastava contattare come dicevamo il supporto via chat e vi rimuovevano i feedback e vi revisionavano i feedback via chat ok o via email ora c'è una procedura di veste se voi li contattate via chat vi rimandano alla seller hub scusate alla seller help che è una dashboard per i venditori dove potete chiedere la rimozione dei feedback la revisione dei difetti di rimozione dei difetti e quant'altro cosa succede ora voi inviate andate su request feedback smooth feedback come sempre che sia richiedete la rimozione di feedback avrete un menu dove selezionare il motivo per la rimozione e scrivere un messaggio di massimo 2000 parole per lo staff e dovete divisionare la vostra richiesta e rimuovere o non rimuovere il feedback quello che succede è che all'80% delle volte questa richiesta viene rifiutata anche se avete ragione ho le mie varie teorie che lì non lavora quasi nessuno che semplicemente accettano e rifiutano le richieste ma sono teorie quindi cosa fare se viene accettata basta il feedback viene rimosso e la storia finisce lì se la richiesta viene rifiutata non abbattetevi perché c'è ancora un'arma ora potete tornare nella chat andate sul help o aiuto in italiano ma vi consiglio in inglese in alto sulla pagina ebay andate sul selling su vendi e andate sulla sulla scheda performance o difetti fai contact us with chat contactci via chat se siete in inglese se siete in italia la chat non ce la avete se siete in inghilterra quindi call.uk fate vi si apre un pop up con una chat automatica basta che scrivete agent agent ok per chi avreste problemi di interpretazione dell'inglese agent e vi chiederà il motivo scrivete defect difetto o non so feedback poi fate ok chat con noi vi tirate il tempo e fate ok aspetto a quel punto ci sarà l'agenda e voi chiederete all'agenda di rimuovere il feedback e gli darete il nickname dell'acquirente e la vostra motivazione che ripeto dovete essere furbi la vostra motivazione la potete anche girare a vostro favore dipende dall'interpretazione del feedback ok dipende dalle interpretazioni del feedback quindi usate un po' l'immaginazione se invece è totalmente afforevole voi per esempio feedback per oggetto non ricevuto ma il tracking risulta consegnato dovete semplicemente dirgli le cose come stanno filo e per segno a quel punto la gente via chat può declinare o rimuovere il feedback se ve lo rimuove va bene andrà via dopo circa 30 minuti 20 minuti a volte un'ora dovete avere un po' di tempo se invece ve lo declina quello che vi consiglio è aspettate 10 minuti 15 minuti un'ora e poi riprovate con un'altra agenda se anche quello ve lo rifiuta riprovate con un'altra ancora magari cambiando leggermente la vostra versione il vostro messaggio e andate avanti così fino a quando qualcuno non ve lo rimuove se vedete che nessuno ve lo rimuove dopo 10-15 volte lasciate perdere può capitare che non venga rimosso ma per mia esperienza personale io ho il 95% dei feedback 90-95% dei feedback rimossi in questa maniera quindi se la prossima volta riceverete un feedback andate in chat fate prima la richiesta via seller help poi andate in chat e fatevelo rimuovere attenzione un feedback rimuovibile al massimo entro 90 giorni dalla ricezione o 45 giorni non ricordo comunque non fate aspettare molto altro a molto tempo un'altra cosa iscrivetevi al canale ragazzi se non lo avete ancora fatto così rimanete aggiornati sui prossimi video mi raccomando mettiti iscriviti un'altra cosa importante se c'è una richiesta di reso o una controversia aperta il feedback non potrà essere rimosso fino a chiusura controvessia reso quindi dovrete attendere che il reso o la controvessia venga chiusa da voi o dall'acquirente ovviamente vi consiglio sempre di chiederla voi una volta risoluta bene ragazzi spero che questo video vi sia stato d'aiuto fatemi sapere nei commenti quali argomenti vorreste sentire su ebay su dropshipping su ebay o anche altro io sono pronto ragazzi a prendere idee svilupparla per voi e esprimere le mie opinioni con voi ragazzi vi auguro una buona giornata ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti